Non male per il calcio a 5, dice la Juve postando la foto della mini corazzata da fare invidia a qualsiasi allenatore, composta da Dybala, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa e Ronaldo, con tanto di argentino tra i pari. Detto, fatto è già arrivata la simpatica risposta dell'L84, squadra di calcio a 5 torinese, o l'8 gradi posto del campionato di A2, che ha ripreso il post bianconero con una proposta molto coraggiosa e amichevole? Esito scontato? Non per tutti. Colini, quale squadra di calciatori di Serie A, sarebbe la più attrezzata per affrontarne una dei calcio a 5? Risponde Fulvio Colini, attuale tecnico dell'Ital Service Pesaro, seconda in classifica nel campionato di Serie A. Colini, soprannominato lo Special One, è l'unico allenatore italiano ad aver vinto la UEFA Futsal Cup, l'equivalente della Champions League del calcio da quest'anno. La competizione ha assunto proprio questa denominazione. Accadde nel 2011 con gli abruzzesi del Montesilvano. Importa schiererei per in, dice Colini. Punto dei portieri di calcio a 11 italiani è indubbiamente quello meglio impostato per il Futsal, nelle uscite basse e nella parata a croce tipica del Futsal ma sempre più utilizzata anche nel calcio. NDR. Come centrale, c'è bisogno di uno forte fisicamente, che spinga e che all'occorrenza sappia calciare anche forte. Laterali, Papu Gomez e Lorenzo insigni grande capacità negli spazi stretti, imprevedibilità nella giocata. E davanti? Non posso prendermi Cristiano Ronaldo perché la Juventus lo ha già messo nella sua squadra. Risponderei con Simone Daza. A tutti i movimenti del pivoglio ho visto stoppare diversi palloni con la suola, che nel Futsal si usa tantissimo. In panchina, Eusebio Di Francesco a Pescara giocava a Futsal, ed è venuto a vedere tantissime partite quando io allenavo in Abruzzo oltre al Montesilvano. Colini ha guidato anche il Pescara, vincendo 5 trofei, NDR. E se un giorno la Juventus accettasse davvero di giocare la sfida? Rischierebbe di perdere. Faccio un pronostico 5-2 per la squadra di Futsal.